L'italiano medio, scapolo divorziato con famiglia, che passi nelle vicinanze di una bandiera italiana sgargiante, nei suoi tre colori, è ammonito di tenere un contegno assolutamente inequivoco. Potrà sorridere, ma con rispetto, nei confronti di detta bandiera, e non sguaiatamente, come può accadere di ammiccare ad un compagno di bevute e sconvenienze. Gli si consiglia di levarsi il cappello, ma sempre come si usa con i superiori, non, ad esempio, con i condomini. In genere, può eseguire gesti allusivi a trepida devozione, incondizionato assenso, festosità e generico desiderio di morire in modo straziante per la medesima. Tanto, egli lo sa, la sua famiglia resterà raccomandata alle cure di quella bandiera che non dimentica i suoi figli migliori. Questo contegno, non esito a giudicare saggio, prudente, e anche se ipocrita, davvero italiano. Infatti, quei tre colori sono protetti dal reato di vilipendio, e pertanto nessuno può usare, nei confronti del bianco, del rosso e del verde, espressioni insolenti, ironiche, ideologicamente daltoniche, sprezzanti. Questo reato di vilipendio fluttua sulla vita nazionale da non so quanti anni, generazioni, certo, ed è ormai parte integrante del costume nazionale, come il delitto d'onore, la grassa cucina, il nero ciabattare dei preti, e le guerre perdute, le pensioni a babbo morto. Il numero delle persone identiche l'italiano non può assolutamente vilipendere, pena il processo, che da noi è in genere peggio della galera e molto peggio della multa, è estesissimo. Il che fa pensare che il cittadino italiano vive in condizioni tali, e tra istituzioni che egli è desideroso di vilipendere, e che, insomma, se appena potesse, l'italiano passerebbe buona parte della sua vita a irridere ministri, deputati, preti, bigliettari, capi di Stato nazionale ed esteri, vigili, santi rene, turbini, sindaci, metronotte, orfanelle, carristi, carabinieri, dogvi e liberi docenti. Temperamenti più laconici e comprensivi potrebbero insultare la nazione tutta, o, come se detto, prendere a calci la bandiera. Rammento che un tale venne condannato a sei mesi per aver detto in un contesto di lite doganale «Mi vergogno di essere italiano». Pertanto, resta acclarato che noi tutti dobbiamo essere sempre fieri della nostra patria, che ci ha fatto quali siamo. Recentemente sono accaduti taluni eventi che illuminano di luce nuova questo tema del vilipendio. Un certo noschese, noto per la sua abilità nel contraffare uomini autorevoli e pertanto protetti dalle transenne del reato di vilipendio, essendosi divertito in quel suo modo semplice e ideologicamente affettuoso a far ridere taluni innocenti, imitando il presidente Leone e il santo padre, venne denunciato, appunto, di vilipendio. E per buona sorte trovò un magistrato eversivo che lasciò perdere. Ma quello che è chiaro è questo. Il signor noschese fu spaventato e turbato, come accadrebbe a qualunque italiano, inclusi i martiri di Belfiore e Silvio Pellico, in qualche modo sfiorato dall'occhio malato e vizioso della giustizia. Fece alcune dichiarazioni sacrificali e a scopro propiziatorio, in breve disse, amo la patria e sono cattolico. Ora, noschese non aveva affatto il verso al dio dei cattolici che, per la sua curiosa conformazione, mal si presta a codesti giochi, ma solo aveva giocato, alla sua maniera, con il papa. Ma se fossi un giudice, quella precipitosa dichiarazione di cattolicesimo, mi insospettirebbe. È facile dire, io sono cattolico. Ma che ne pensa del peccato originale, del concilio di Nicea? Ha le idee chiare sui monofisiti? Perché è ovvio, se il noschese risultasse un monofisita, un anabattista o un patarino, il suo bilipendio assumerebbe il carattere di un vero oltraggio, a carattere eversivo, nei confronti della religione dello Stato, quello che si occupa delle sepolture. Diciamolo cattolico incauto, e andiamo oltre. E amare la patria? In primo luogo, l'ama veramente tutta? Ad esempio, posto di fronte a Viale Maino, a Milano, direbbe il noschese, sì, io lo amo tutto, numeri pari e dispari. Ama anche la periferia nord di Foggia, le latrine di tutti indistintamente, i ristoranti e le tavole calde dell'autostrada. Ama i parafulmini, le scritte non lordare, e i gatti, che non abbiano attraversato il confine? Se un gatto attraversa il confine per conto proprio, esso, infatti, cessa di far parte della patria. E allora, il noschese cessa di amarlo nel momento stesso in cui quel gatto attraversa il confine, o magari distrattamente lo ama anche dopo. Perché, in quel caso, avendo trasferito un tipo di amore che spetta alla patria, a cosa che la patria non è, egli potrebbe essere sospettato di commercio col nemico, essendo chiaro che la patria è circondata di paesi che ne concupiscono, ad esempio, le coste ricche delle nostre impareggiabili merde, ovviamente incluse nel concetto di patria da amare. Inoltre, ama la patria ininterrottamente, notte, giorno, sveglio e dormente, o che so io? La ama tutta e sempre? Non vorremmo sentirci dire, veramente, verso le tre del mattino, io non amo, anzi, assolutamente disprezzo, l'incrocio tra via Macallè e via Asmara, a Roma. E quanto alle chiese sconsacrate della Basilicata, Dio mi perdoni, ma una volta alla settimana le insulto in modo indecente e prolungato. Infine, di che amore il noschese ama la patria? Intende dire, come una donna, una mamma, desidera forse accarezzarla con animo pietoso, o forse la ama in modo un poco più torbido, anche solo scherzoso, le pizzica le colline, o, francamente, la concupisce? Non è impossibile che il noschese, questo cittadino portato al dileggio, sia inclino allo stupro della patria. Ha mai cercato di cogliere alla sprovvista, con intenti lascivi, parti del paesaggio, stazioni ferroviarie, soffioni? o la ama in modo onesto, e desidera sposarla e secco convivere con la protezione della legge? In tal caso, la sua corte dovrà essere discreta e aliena da quelle confidenze di cui dà prova nelle sue rappresentazioni. Uno sposo non si fa beffe del suocero del sacerdonte che presiede al sacro vincolo. In ogni modo, in questo concetto di amare la patria, io non vedo alcunché di buono, e molto, che meriterebbe accurata e severa indagine. Oggi i costumi sessuali degli italiani sono incredibilmente depravati. Incidentalmente, mi era parso di leggere che il Presidente della Repubblica era stato recentemente incriminato per vilipendio del Capo dello Stato, creando una situazione giuridica assolutamente catastrofica, ma può essere che io sia stato informato male. Nell'ottobre dello scorso anno, un altro incidente alquanto più plateale finì sul tavolo del Ministro di Grazie e Giustizia. Infatti, un tale multato in quel diudine da due guardie di pubblica sicurezza era esploso in una concitata invettiva, forse ideologicamente poco articolata, ma non priva di espressività. Di queste esistono, come è stato chiarito, due versioni. una purgata per la Camera dei Deputati ed una, critica ed integrale, per i senatori, uomini rotti ad ogni vizio. Il Signore rivolgeva agli agenti suddetti le seguenti frasi «Maledetta la Repubblica Italiana, io al Presidente della Repubblica gli romperei il culo e così farei con tutti i deputati e senatori, io sono un libero cittadino e voi mi state rompendo i coglioni, porco e Dio». Ora, per buona sorte, l'autorizzazione a procedere non è stata concessa e se ne può parlare con una certa serenità. Se infatti prendiamo la proposizione «romperei il culo a tutti i deputati e senatori», essa comporta taluni problemi giuridici. A differenza della patria, che è sperica e globale, il deputato è protetto in quanto rappresenta per elezione popolare la nazione. Ma si potrà affermare che anche il culo del deputato sia stato eletto? O in tal caso non cade nel reato di vilipendio del deputato? Il deputato è stato eletto in quanto corpo, inclusivo di parti intime e vergognose, oppure in quanto persona, anima, psiche. Ma se, tanto per dire, io affermo che anche lo scroto rappresenta la nazione, non mi troverò di fronte ad un reato di vilipendio della nazione tutta? Già che è noto che lo scroto in genere è tenuto in modesta stima, per non di peggio. Ma un altro punto di vista, è chiaro che in proposito di rompere il culo a tutti i deputati e senatori, rivelano il signore in questione una chiara megalomania, un delirio di grandezza confermato dalla frase che è poco definire scandalosa, io sono un libero cittadino. frase che suscita pena e apprensione per i familiari di costui invasato da furori giuridici ed affermazioni imperiali che non rivelassero una povera mente sconvolta, includerebbero tutti i possibili reati di vilipendio, oltraggio, tradimento, consegna di piani militari al nemico, insulto alla bandiera, linciaggio delle forze armate, stupro del paesaggio, abigeato nei confronti dei leoni del Campidoglio e della lupa di Roma, infine, annichilimento, per mera magia verbale, dei carabinieri, dei generali, dei vigili, e dei maestri, professori e presidi di ogni ordine e grado e, a maggior ragione, dei bidelli. In genere, la giunta per le autorizzazioni a procedere è indulgente e motiva codesto lassismo dichiarando che codeste espressioni per la loro genericità e non particolare gravità non concretano il reato di vilipendio. In effetti, il signore di Udine, pur nella sua vaniloquenza libertaria, ha aiutato il Parlamento a dichiarare che il culo, genericamente inteso come parte depressa dell'organismo umano, rientra sì nel concetto di patria, ma non in quello di deputato. E se gli spetta la generale protezione che tocca tutto ciò che è patria, non può vantare la specifica tutela. che va ai rappresentanti della nazione.